Ancona protestano gli sfollati del sisma davanti alla regione, non siamo considerati terremotati, manca la concessione dello stato d'emergenza ed insorge il comitato 707 dopo aver incontrato Acquaroli. Un pensiero ai popoli in guerra e per i papassoli in questi giorni di festa, messaggio di Pasqua di Monsignor Pennacchio, il Vescovo di Fermo, ricorda anche il ritorno delle processioni dopo la pandemia. Da Arquata la storia di rinascita di Francesco, il piccolo eroe operato per una cardiopatia dall'equipe del dottor Pozzi all'ospedale Torrette, mamma Aurora e papà Antonio guardano ora con speranza al futuro. Anche il CT Mancini alla partita del cuore a Senigallia il 16 aprile, fondi proalluvionati, Ancona Colavitto, la decisione martedì dopo la figuraccia di Alessandria, la società lascia il tecnico a rischio esonero in stand-by. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG Mark, che è notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano il terremoto protesta degli sfollati del sisma in regione, perché nonostante il placer dell'allemandamento a resi, gli anconetani non sono considerati terremotati, manca la concessione dello stato d'emergenza, il comitato 707 tuona dopo aver incontrato il governatore Acquaroli. Carlo Terracciano dice che dobbiamo avere risposte, perché questo non è un gioco risponde anche Antonietta Abudini, pretendiamo aiuti anche noi. Sentiamo Ciro Montanari. La recente approvazione dell'emendamento per le aree del sisma comprende anche gli sfollati di Ancona dopo la scossa del 9 novembre scorso, ma solamente se verrà concesso lo stato di emergenza, altrimenti resteranno fuori. Siamo terremotati fake, siamo finti terremotati. Ci manca, purtroppo la questione è il pezzo di carta, manca un pezzo di carta con una firma di uno che conta sopra, al quale si arriva in modi che restano misteriosi. Alla stregua di tutti gli altri cittadini che finora hanno subito calamità naturale e hanno giustamente avuto gli aiuti previsti dalla legge, lo pretendiamo anche noi. I residenti del Comitato 707 si sono ritrovati nelle piazzale Loi di fronte alla Regione Marche per far sentire la loro voce, per contestare le difficoltà di addentrarsi nella selva del Decreto 11-23, quello degli emendamenti al blocco delle cessioni. In verità chiederemo di non stare a piazzare Loi, ma stare dentro le case nostre. Questa è in sostanza la richiesta. La richiesta è che a cinque mesi dal terremoto ancora resta in evasa e senza nemmeno una prospettiva di una risposta certa. Insomma, senza la dichiarazione dello stato di emergenza, i terremotati del 2022 non sono terremotati, quindi non hanno diritto a niente, non al contributo di autonoma sistemazione, non alla cessione dei crediti, non alle loro case. Eppure il terremoto a novembre 2002 c'è stato, ha colpito duro ed ha reso inagibili circa 70 immobili, ponendo 70 famiglie senza casa ormai da cinque mesi. Abbiamo costituito un comitato che si chiama 707, che è l'orario della scossa. Da lì siamo diventati sempre di più, abbiamo sempre cercato di interagire con le istituzioni. Poi siamo stati chiamati dalla sindaca di Ancona il 20 marzo e lei ci ha riferito che ci sarebbe stata in quella settimana due riunioni con la protezione civile. Quindi siamo a conoscenza che dal 24 marzo tutta la documentazione relativa ai danni di Ancona è stata consegnata dalla regione alla protezione civile nazionale e adesso siamo in attesa di una risposta. Abbiamo incontrato anche il presidente Acquaroli che ha riferito che avrebbe parlato con Curcio della protezione civile nazionale. Gli sfollati ribadiscono che non c'è più tempo da stare lì a discutere su cosa e come, bensì è tempo di agire, anche e soprattutto per la politica. Questa storia del, vi faremo sapere, deve finire, ormai basta, quello che dovevano raccogliere loro, quello che dovevano presentare loro, l'hanno raccolto, l'hanno presentato e adesso noi dobbiamo avere una risposta perché questo non è un gioco. È stata sventata dalla Guardia di Finanza una maxifrode fiscale per 150 milioni di euro, sequestri per 33 milioni, con un'arrestata e ben 18 indagati. Andiamo a Senigallia allora con Ciro Montanari. La Guardia di Finanza ha sventato un'organizzazione criminale che attraverso una rete di imprese ha emesso fatture false per 150 milioni di euro. 600 le imprese localizzate che hanno determinato un'evasione di 33 milioni di euro di IVA, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il conseguente riciclaggio di proventi illeciti conseguiti. Nel corso delle indagini condotte dalla tenenza di Senigallia sono state denunciate 18 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui 3 italiani e 15 cinesi. La principale responsabile, una donna cinese, è stata sottoposta agli arresti domiciliari. L'attività investigativa è stata denominata Fast & Clean per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante simulazioni di operazioni commerciali mai avvenute anche nel settore edile con bonus. Le perquisizioni hanno consentito il sequestro di ingenti somme di denaro contante, preziosi, orologi, gioielli, autovetture di pregio, uno stabilimento di produzione tessile e nove unità immobiliari del valore complessivo di oltre un milione di euro. Sono state sottoposte a sequestro preventivo 15 imprese. L'investigazione nasce a seguito di un controllo fiscale antiriciclaggio della Guardia di Finanza di Senigallia, avvenuto ad un imprenditore cinese terzista di un opificio di Corinaldo che, simulando costi fittizi, utilizzava fatture per operazioni inesistenti emesse da imprese cinesi. Dall'opificio di Corinaldo i flussi si ramificavano verso il nord Italia. Sono state identificate 15 società cartiere fantasma prive di sede e struttura fisica, intestate a soggetti prestanome per evadere il fisco. Gran parte dei 150 milioni di euro trasferiti in Cina venivano restituiti in denaro contante consegnato da Corrieri. Arrestato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio un 73enne di Ancona per furto di beni culturali ed autoriciclaggio. L'uomo è accusato di aver commesso lo scorso febbraio un furto nella chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato di Corridonia. Secondo la ricostruzione compiuta dagli inquirenti, avrebbe poco dopo il furto venduto quegli stessi beni ad un commerciante di materiali preziosi di Ancona dichiarando una falsa e legalmente corretta provenienza grazie a falsi certificati. Le indagini condotte dal nucleo TPC di Ancona in collaborazione con l'arma territoriale hanno permesso di recuperare gli oggetti sacri trafugati che sono stati restituiti il 20 marzo scorso dagli stessi militari al legittimo proprietario cioè il parroco che potrà usarli per le liturgie pasquali. Di fondamentale importanza si è rivelata la consultazione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti la più grande del mondo con oltre 8 milioni di files relativi a beni da ricercare gestita in via esclusiva dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna per peculato nei confronti dell'ex governatore delle Marche Gian Mario Spacca e l'ex consigliere regionale del PDL Giacomo O'Bugaro emessa dalla Corte d'Appello di Perugia. I giudici della Suprema Corte nel rinviare gli atti a Firenze hanno sostenuto che nella sentenza sussiste un vizio di motivazione. Sentiamo Luigi Miozzi. Condanna anomala è quanto si legge nelle motivazioni dei giudici della Cassazione chiamati a pronunciarsi sulla sentenza della Corte d'Appello di Perugia che ad ottobre del 2021 aveva condannato per peculato l'ex governatore delle Marche Gian Mario Spacca e l'ex consigliere regionale PDL Giacomo O'Bugaro rispettivamente a un anno e otto mesi e a un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena ribaltando la pronuncia di assoluzione dei giudici di secondo grado di Ancona. La Suprema Corte lo scorso 9 febbraio ha annullato la sentenza e ha pertanto rinviato gli atti alla Corte d'Assise di Firenze per quello che sarà il processo d'Appello Ter. Gli ermellini hanno sostenuto che sussiste certamente un vizio di motivazione decisivo individuando molte pecche nel verdetto dei magistrati Umbri. Ad avviso della Cassazione è tutta da rivedere la fondatezza dell'accusa di approvazione di fondi pubblici per 4.600 euro contestati a Bugaro per spese postali e convegnistiche e per 23.300 euro a spacca per le spese di spedizioni dei periodici Marche Domani e Coinè e la messaggistica a Ruba. Nel ricorso alla Suprema Corte le difese hanno sostenuto che nel riformare la pronuncia assolutoria i togati perugini non si erano adeguatamente confrontati con la ricostruzione del giudice di primo grado che aveva affermato che si trattava di spese lecite aventi ad oggetto tematiche strettamente connesse a questioni di interesse regionali e all'attività consigliare e del suo presidente. Altra critica mossa dalla Cassazione ai giudici Umbri è quella di aver ritenuto ininfluenti le dichiarazioni rese dagli imputati sulle quali era stata fondata la pronuncia assolutoria proprio in ragione dei chiarimenti da loro forniti circa la legittimità delle stesse spese. Ora la decisione passa alla Corte d'Assise di Firenze chiamata a valutare nuovamente tutti gli atti. E ora il messaggio pasquale del Vescovo di Fermo Rocco Pennacchio che rivolge il pensiero alle popolazioni colpite dalla guerra e ai papà che purtroppo saranno soli durante queste feste. Donatella Lappa. Sua eccellenza una Pasqua quest'anno possiamo definirla liberi finalmente dalla pandemia. Quest'anno sì definitivamente negli ultimi anni progressivamente avevamo allentato o meglio la conferenza episcopale sulla scia del governo aveva allentato le misure di restrizione. Da quest'anno abbiamo ripreso anche le processioni in tutta la loro bellezza e questo è un grande sollievo per il nostro popolo. Con un velo di malinconia e di tristezza pensiamo che la guerra però è ancora lì e ci intristisce in effetti. Dobbiamo è una Pasqua di passione per i popoli coinvolti con i quali vogliamo essere solidali in questi giorni. Il pensiero va come sempre durante il periodo pasquale appunto a tutti coloro che soffrono lei ha nominato le popolazioni afflitte dalla guerra quali sono le altre grandi sofferenze dell'umanità eccellenza? Intanto le numerose guerre che ci sfuggono che non sono a noi note un po' perché ci interessano poco un po' perché i mezzi di comunicazione non ne fanno menzione e sotto gli occhi di tutti la sofferenza del flusso migratorio dei migranti che bussano alle nostre porte mai come in queste ultime settimane i numeri sono stati veramente preoccupanti per non parlare poi dei senza tetto di coloro che non hanno famiglia penso anche alle famiglie divise ai papà soli i più delle volte sono la parte più più debole quando una famiglia si sfascia si rompe e tutti gli ammalati anche solo con un pensiero invito tutti i cristiani a rivolgere al Signore una preghiera anche per loro una vera e propria rinascita quella del piccolo Francesco bambino di Arquata nato dopo il terremoto e costretto a subire a soli tre anni un delicato intervento chirurgico per una rara forma di cardiopatia il racconto di mamma Aurora in questa commovente intervista di Luigi Miozzi Francesco ha soli tre anni ma è già un esempio di forza e di rinascita nato dopo il sisma del 2016 vive con i suoi genitori e i due fratelli maggiori in una delle casette del villaggio Sae di Borgo ad Arquata quando era ancora nel grembo di mamma Aurora a seguito di un'ecografia morfologica gli viene diagnosticata una rara forma di cardiopatia Francesco nasce con una cardiopatia che hanno lo 0,05% di tutti i bambini quindi una cardiopatia molto rara che si chiama la trasposizione congenitamente corretta delle grandi arterie quindi lui ha i ventricoli del cuore per dirla in maniera più semplice aveva la parte destra che svolgeva il lavoro della parte sinistra quindi la destra il ventricolo destro si spessisce sempre di più il ventricolo sinistro diventa sempre più ipertrofico ipoplastico quindi avviva il punto in cui il cuore scompensa e l'unica soluzione possibile è il trapianto mamma Aurora insieme al papà Antonio e i fratelli adolescenti decidono di non mollare e intravedono una speranza al torrette di Ancona dove il professor Marco Pozzi direttore del reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche è tra i pochi ad eseguire un intervento all'avanguardia di doppio switch cardiaco che deve essere realizzato nei primi anni di vita del bambino qui entriamo in un altro mondo comincia la nostra vita parallela che è la vita fatta di dottori di cardiochirurghi di cardiologi che è la vita nella quale dimentichi pure che un figlio possa aver bisogno del pediatra perché comunque il pediatra diventa proprio purtroppo hai un problema e devi chiamare il cardiologo quindi si entra in una vita pavallela fatta di mamme che piangono fatta di una nuova famiglia perché poi figli e le vittorie e le sconfitte delle altre mamme diventano un po' le vittorie e le sconfitte di tutti noi quando arriva il giorno dell'intervento lo scorso 2 febbraio accanto ad Aurora ci sono anche le mamme degli altri bambini ricoverati nello stesso reparto e tutti insieme hanno atteso che il chirurgo dopo 14 ore di sala operatoria comunicasse loro il buon esito dell'operazione una esperienza che inevitabilmente ha segnato anche il piccolo Francesco Francesco è stato fortissimo sotto ogni punto di vista tant'è che lui è uscito dall'ospedale e dopo 3 giorni faceva le capriole a casa però a livello ospedalievo il suo blocco ha avuto un blocco psicologico importante perché comunque nel momento della terapia intensiva i bambini stanno da soli senza la mamma a cui è concessa la visita di 2 ore al giorno e dal momento in cui lui era a sveglio quindi era più attivo superata la fase critica della vita o della morte diciamo e lui si è trovato da solo un paio di giorni che sono dei giorni che psicologicamente l'hanno stabilizzato tanto ma dopo tanta sofferenza e preoccupazione si guarda al futuro con speranza e fiducia adesso diciamo che ci stiamo riprendendo perché anch'io non è stato facile per me ci stiamo riprendendo so che Francesco avrà una vita normale nonostante abbiamo ancora qualche piccola cosa da sistemare è proprio una rinascita anche per gli altri fratelli che comunque sono grandi e non hanno vissuto bene la cosa da ospedale a condominio di lusso è la storia del cantiere infinito dell'ex Umberto I un'opera incompiuta da decenni nel cuore della città di Ancona oggi è una maxistruttura abbandonata rischio degrado c'è molta preoccupazione anche da parte dei commercianti che lavorano in zona Teodora Stefanelli un gigante vuoto e abbandonato da anni qui dove prima c'era l'ospedale Umberto I nel cuore del quartiere adriatico di Ancona dovevano nascere 300 appartamenti di lusso da 6.000 euro al metro quadro oggi però lo scenario è questo transenne resti di qualche bivacco e lavori immobili intanto sono passati 15 anni e le speranze di veder nascere il progetto dell'ex Santarelli Costruzioni si è via via affievolito chi lavora qui intorno tra lavori e cantieri infiniti è imbestialito come Nicola Gismondi titolare del caffè che si trova a pochi metri dall'ex Umberto I qui un tempo lavoravano sei dipendenti e si battevano scontrini a non finire poi l'ospedale è chiuso e gli affari sono iniziati a calare dopo non poche difficoltà Nicola ha deciso di riaprire ma non è facile dice andare avanti in queste condizioni ho riaperto dopo un anno di chiusure sapendo che se fosse stata la riapertura dell'Umberto I a fine marzo invece non è stata così una tela di Penelope ma poche parole disfono e fanno aspettiamo che aprino non lo so prima stavo pensato di fare un cartello le Muse 2 l'ospedale l'ospedale Umberto I 60 anni di chiusura e farà la stessa fine questo è che piace investire dei soldi quando non rientra niente è vero che io chiudo a pomeriggio e potrei fare tantissime altre cose però sapendo che a fine mese apre l'ospedale che poi si viene a sapere tramite altre persone che non è vero niente scoccia un po' tutto oltre ai danni economici resta il tema della sicurezza all'interno dell'ex ospedale infatti la notte è facile che entrino persone a bivaccare con il rischio di gravi conseguenze siamo nella zona centro adriatico siamo nel centro di Ancona storica dove prima o poi succederà qualcosa dentro questo ospedale che non è c'è neanche un controllo non c'è un custode che guarda chi entra chi esce e va a finire che magari entra qualche ragazzo e cade qualcosa addosso e dopo di chi è la colpa si avvicinano le elezioni comunali di Grotta a Mare al voto del 14 e 15 maggio candidata per una coalizione civica con la presenza del Movimento 5 Stelle è Alessandra Manigrasso viabilità periferie e lungomare alcuni dei punti cardine del suo programma Pierpaolo Flammini si chiama comunità al Movimento per Grotta a Mare la lista civica che vede all'interno la presenza anche di esponenti del Movimento 5 Stelle che avrà come candidata a sindaco l'attuale consigliere comunale Alessandra Manigrasso il Movimento nasce soprattutto da questa fusione che abbiamo fatto tra comitati cioè questo è stato praticamente un grande laboratorio politico chiamiamolo così dove hanno partecipato i cittadini soprattutto i comitati cittadini che in questi anni si sono cimentati in tante segnalazioni battaglie e associazioni mondo dell'associazionismo e liste civiche lì di Mitrofi tra i temi della campagna elettorale sicuramente quello del rifacimento del lungomare grottamarese che tanto ha fatto discutere ma non mancano riferimenti alla viabilità e a zona scolani le critiche le sono state ormai in questi ultimi anni non solo in consiglio sono emerse anche le soluzioni che potevano essere apportate i correttivi che non sono mai stati ascoltati e adesso in fase di ultimazione stiamo notando che ci sono anche delle incongruenze tra il precedente progetto è quello che si sta realizzando e questo lo stiamo seguendo e attenzionando con la sovrintendenza la viabilità la viabilità è da inserire in un planning in un progetto che possa dare veramente funzionalità rendere dare quella famosa alternativa di scelta nella scelta delle strade purtroppo abbiamo visto che ricorrere ai fotored non ha certo migliorato queste situazioni non sono state i fotored non hanno portato alla soluzione le zone a scolani le zone a scolani rimane con un progetto monco sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia per il famoso ponte il sottopassaggio che non si può guardare è un sottopassaggio che veramente in questi anni non è stato attenzionato assolutamente per una soluzione è un quartiere che anche lì insomma è stato veramente abbandonato per noi queste sono diciamo alcune delle priorità ne abbiamo altre con quattro candidati alla poltrona di sindaco si profila anche la concreta possibilità di andare al balottaggio noi stiamo andando per la nostra strada noi siamo stati sempre delle formichine abbiamo sempre costruito i nostri mattoncini la nostra è stata sempre un'opposizione costruttiva condizionante ci siamo aperti dove c'era ad aprirci con chi c'era ad aprirci con chi condivideva con noi dei temi a san beneretto mancano pochi giorni ovviamente a pasqua il primo vero banco di prova per gli operatori turistici l'incognita del maltempo però pesa sulle prenotazioni last minute hotel già sold out per le frecce invece tricolori che si esibiranno il 4 giugno data nella quale in riviera sono attesi oltre 300.000 visitatori Jessica Balestra a pasqua ci si affida il cielo anche quest'anno a pregare non saranno soltanto i fedeli ma albergatori e operatori turistici della riviera impazienti di accogliere turisti nelle proprie strutture mani giunte sperando che il meteo non riservi brutte sorprese impossibile azzardare i pronostici tutto si deciderà nelle prossime ore perché si sa le vacanze estive vanno prenotate in anticipo ma pasqua e pasquetta sono last minute la pasqua è sempre last minute quindi ci sono dei bei numeri probabilmente già si vedono sicuramente anche nel ponte del 25 aprile del primo maggio che c'è un bel ponte lungo anche lì si lavorerà bene e ci sono veramente delle buone aspettative per la stagione nonostante il caro prezzi gli italiani non rinunceranno al weekend di pasqua si scelgono mete più vicine e sorgiorni brevi dall'estero arriveranno il 15% di turisti stranieri in più rispetto allo scorso anno secondo le stime di Federturismo privilegiate città d'arte ma anche le località costiere il presidente di Estualbergatori ha in mente una serie di idee per sponsorizzare il territorio noi da canto nostro dobbiamo lavorare magari su influencer su cercare un pochettino di riempire quei buchini magari giugno quindi è dove possiamo lavorare di più chiaramente luglio e agosto si riempiono comunque quindi non è lì che fa la differenza è giugno difficile trovare alberghi liberi per il 4 giugno prossimo giorno in cui è previsto lo spettacolo acrobatico delle frecce tricolori hotel già sold out in riviera dove è atteso l'arrivo di 300.000 visitatori tradizione del venerdì santo astenersi dal consumare la carne e osservare un giorno di digiuno il consiglio si estende anche al sabato santo almeno fino al momento della veglia pasquale andiamo a sentire però cosa acquistano i marchigiani al mercato ittico secondo la tradizione cristiana bisogna astenersi dal consumare la carne il venerdì santo che è anche il giorno di digiuno consigliato anche il sabato santo almeno fino al momento della veglia pasquale mentre si possono invece mangiare uova, latticini e pesce il pesce è l'alimento che viene consumato tradizionalmente il venerdì santo ad essere scelto rispettando così un'usanza culturale e religiosa è soprattutto il pesce azzurro dalle alici alle sardine fino agli sgombri venduti a prezzi contenuti secondo i criteri di sobrietà richiesti dalla ricorrenza siamo andati dunque a sentire che pesce si vende di più e a chi compra che cosa prepara per oggi questa mattina per il venerdì santo volta gente ha scelto di mangiare solo pesce quindi che cosa sta vendendo di più calamari, seppie, naselli cercano tutti le panocchie ma non ci sono e sono carissime quindi purtroppo mi dispiace non c'è mazzancolle pure poche che costano tanto ma più che altro seppie e calamari quello che vanno di più di tutti stamattina la vedo impegnatissima anche al telefono a rispondere prenotano in tante tante prenotazioni sì oggi venerdì santo solo pesce a casa? sì che cosa si mangia? che cosa ha comprato? ho preso della roba già preparata per evitare di cucinare insomma che cosa ha scelto? dagli spiedini a mazzancolle che cosa ha scelto oggi per il venerdì santo? che cosa comprerà? due alici due alici un po' di frittura mista diciamo così niente di particolare Giuseppe detto Peppe da tutti gli amici si prepara pesce tutti i giorni stamattina qui all'opera con un panorama spettacolare una pochezzina delle sepie oggi ma che cosa chiedono che cosa hanno chiesto di più questa mattina ai clienti? da solito cercano soiole e cicale le cicale sono? le panocchie io te l'ho detto in italiano e quindi stamattina per il pranzo del venerdì santo soprattutto questo che cosa consiglieresti? seppie biselli o le tagliatelle stamattina quante seppie hai preparato? a occhio eh 25 una quarantina di chili in periodo invernale queste se ne trovate meno e vanno cari adesso c'hanno un prezzo l'inverno c'hanno un altro che cosa ha preso? merluzzi quindi oggi menù a base di merluzzi come lo fa? lo faccio in brodo lesso acquisti per il venerdì santo che cosa si compra di pesce oggi? sogliole per pranzo o per pranzo e cena? per cena soltanto pranzo non lo so ancora non ho idea fiocco rosa al parco zoo di Falconara che festeggia la Pasqua con la nascita di una femmina di cammello sesto genita di Clara e Orazio storica coppia della struttura la piccola è stata chiamata Alessandra in onore della Santa che si ricorda il 20 marzo giorno in cui è venuta alla luce occhioni profondi tenera e allegra la cucciola ha iniziato a muovere i primi passi sta crescendo bene in salute nei primi giorni di vita è rimasta nascosta all'interno del suo reparto mentre ora passeggia coccolata da entrambi i genitori mostrandosi fiera ai visitatori del giardino zoologico marchigiano per il periodo necessario alla formazione delle caratteristiche gobbe importanti riserve di grasso di cui al momento è priva Alessandra verrà allattata dalla mamma successivamente inizierà a nutrirsi in maniera autonoma un momento di grande gioia per il parco zoo di Falconara che nel mese di aprile ha in programma un ricco calendario di eventi da vivere in famiglia per scoprire insieme il meraviglioso mondo degli animali e adesso restate con noi pochi secondi di pausa e torniamo con il nostro Tg Sport e torniamo con il nostro